È bastato un controllo della ASL in un capannone alveare di 50 ditte cinesi allo smannoro per far scattare la rivolta. Centinaia di cinesi contro le forze dell'ordine dal pomeriggio di ieri fino a tarda sera. La periferia di Sesto Fiorentino è diventata un campo di battaglia con lanci di sassi, bottiglie, lattine, urla, sirene, gente che scappa. Il bollettino conta almeno 7 feriti, 3 orientali e 4 appartenenti a polizie e carabinieri. I volontari dell'ambulanza giunta sul posto non hanno potuto prestare soccorso nell'immediato perché bloccati all'interno del mezzo. Nella notte tra i due schieramenti si è aperta una trattativa tra le richieste di alcuni cinesi quella di scoprire chi ha portato ai tafferugli oltre alla verifica dei controlli effettuati nelle scorse settimane a loro detta particolarmente violenti. I controlli della ASL sono stati fatti dal personale del Servizio Sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito del piano triennale previsto dalla regione, in collaborazione con le forze dell'ordine. L'area dello smannoro conta molte attività cinesi. Secondo quanto spiegato dalla ASL, le verifiche avrebbero fatto emergere alcune irregolarità non gravi in uno dei capannoni. Quando sono state contestate al titolare cinese, l'uomo avrebbe reagito spintonando il personale della ASL e delle forze dell'ordine, usando il figlio di dieci mesi come scudo. Diversa la ricostruzione secondo alcuni della comunità cinese che sostengono che il nono col bambino al rifiuto di prestare le generalità sarebbe stato spintonato. Il bambino caduto è rimasto ferito. Questo avrebbe fatto accorrere altri cinesi in soccorso. Da lì in poi il passo per mettere in scena una vera e propria battaglia è stato breve.